Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic ormai di questo negozio un prezioso punto di riferimento per trovare sempre qualcosa di nuovo ed esclusivo. Susanna ti porta dal mondo vestiti ed oggetti introvabili, scelti sempre personalmente sul posto con un rapporto qualità prezzo ottimale. Inoltre Tantan Bazar non vende assolutamente prodotti in pelle o realizzati con parti animali, poiché aderisce alla promozione dello shopping etico e non violento. I nostri cappottini nepalesi, rajastani e le giacche da uomo invernali Ecco i nostri abiti in pura seta seta cotone puro cotone indiano Gran parte dei modelli sono progettati e seguiti personalmente in tutte le fasi della produzione e provengono soprattutto dal Rajasthan dove il gioco dei colori si accompagna al gusto raffinato nella realizzazione dei capi La nostra collezione di sciarpette e pasmine vi incanterà Acquistiamo i nostri gioielli solo da laboratori da noi stessi selezionati nel tempo Ci narrano la storia e la cultura dei luoghi dove vengono realizzati In Argento 925 troverete Collane Bracciali Orecchini Cavigliere Chiama Angeli Nostro fiore all'occhiello La bigiotteria etnica E poi la nostra oggettistica statuette in ottone La magica latta indiana con i suoi originalissimi specchi di portagioie di prima qualità Le scatole cashmire in pepper match dipinte a mano artigianato in legno Potete sbizzarrirvi tra scatole Ticca Bauletti tibetani Cassettiere da tavolo Date un occhio alla nostra particolarissima cartoleria Con i suoi portafoto in seta da Sari di varie dimensioni I notes di carta riciclata Le cartelline portadocumenti I complementi d'arredo per la vostra casa Arazzi Lampade in ottone lavorato E mille altre idee regalo per tutte le tasche Tamtan Bazar Una diversa finestra sul mondo Siamo a Mestre In via Verdi 118 Via Verdi Ovest Ad un passo da Villa Querini Verso via Miranese Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti